Sicurezza, lotta al degrado, area di risulta, economia e lavoro e acqua, intesa come mare e fiume. Sono queste le cinque grandi idee per Pescara, i cardini del programma per il rilancio della città adriatica che Luigi Albore Mascia sosterrà in campagna elettorale in appoggio alla candidatura a sindaco di Carlo Masci per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Già sindaco di Pescara nella consigliatura dal 2009 al 2014, Mascia, sicuro del suo ruolo di capolista per Forza Italia, superando le divisioni politiche nella convinzione che l'Unione porterà alla vittoria del centrodestra, annuncia il suo impegno per Pescara, auspicando per sé un ruolo di guida della Polizia Municipale. Forte dei recenti consensi della Lega e della crescita di Fratelli d'Italia, l'apporto di Forza Italia sarà decisivo per la vittoria della coalizione, ha dichiarato Luigi Albore Mascia, che sabato 13 aprile alle ore 11 presso la sala consigliare del Comune di Pescara aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale a sostegno di Carlo Masci, candidato sindaco del centrodestra. Sono cinque macro temi, sono cinque grandi idee che non sono ovviamente esaustive delle grandi questioni della città, di una città complessa come Pescara, ma sono le macro questioni, le questioni più importanti sulle quali attraverso un programma condiviso della coalizione bisognerà lavorare il giorno dopo l'elezione di Carlo Masci, sindaco. Io sarò il capolista di Forza Italia, questo è un onore, questa è anche una responsabilità e con la delicatezza di chi, dopo essere stato generale e quindi sindaco di questa città, grande passione e grande onore, si mette a disposizione e quindi assume il ruolo del soldato che scende in campo per ottenere la preferenza insieme a tanti altri amici di centrodestra, di centrosinistra e delle astreriste civiche ai quali faccio a tutti in bocca al lupo per questa grande competizione democratica che sono le elezioni consigliari di Pescara. E sul sostegno dell'Udc Masci aggiunge. Contano gli uomini, non contano soltanto i simboli. Occorre la condivisione di un programma e quindi dei temi che tratteremo sabato, occorre poi una stretta di mano e uno sguardo negli occhi con le persone per mantenere fede a quell'impegno e per andare avanti cinque anni e lavorare dal primo giorno fino all'ultimo, uniti e compatti.